Questo animaletto veramente curioso è un clamidosauro, è un rettile molto particolare che vive in Australia e che ha questo particolare meccanismo di difesa, ossia apre queste due enormi membrane, che vengono chiamate clamide, da cui il suo nome, e spalanca la bocca per difendersi dai predatori sembrando più grosso di loro. Lo conoscevate? Ditemelo nei commenti, ciao!